Ciao a tutti, voglio condividere con voi la mia pizza fatta in casa, quindi vi darò la ricetta e avrà alcune peculiarità, cioè non impasteremo e sarà pronta in 4-5 ore massimo. Allora, come primo step ci pesiamo tutti gli ingredienti, io l'ho fatto per motivi di tempo e abbiamo mezzo chilo di farina, 350 ml di acqua, 6 grammi di lievito di birra, 12 grammi di sale e 15 grammi d'olio, circa 3 cucchiai. Cominciamo subito mettendo l'acqua in questa ciotola, temperatura ambiente e andiamo a sciogliere il lievito. Questa tecnica si chiama knock mead, cioè impasto senza impasto, noi non andremo ad attuare alcuna energia meccanica con un'impastatrice planetaria e nemmeno con le mani, o almeno quantomeno minima proprio. Ecco, sciolto il lievito di birra, aggiungiamo l'olio, ecco qua, farina. Andiamo con la nostra farina e poi ci muoveremo di un cucchiaio. Ecco, a questo punto ci basterà solo fare pochi giri con il cucchiaio in modo da amalgamare tutti gli ingredienti. Ecco qua, ci assicureremo di raccogliere tutta la farina nella ciotola. Quando avremo creato una sorta di unione di tutte le parti, andremo a mettere il sale. e come detto prima siamo a 12 grammi di sale. Messo il sale continuiamo con il nostro cucchiaio a mescolare. Eccoci qua, ancora. Ecco, arrivati a questo punto noi dovremmo attendere 45 minuti suddivisi in tre step. Cioè, ogni 15 minuti andremo a fare delle pieghe a questo nostro impasto. Non abbiate paura di questi tempi lunghi. Tanto tutti i processi enzimatici e anche la levitazione andrà avanti in questi minuti. Quindi non è tempo sprecato. Quindi attendiamo i nostri primi 15 minuti. Allora, trascorsi i 15 minuti troveremo una situazione di questo tipo. e ci basterà prendere un po' di farina. Ah, dimenticavo di dire, farina basta qualsiasi del supermercato di medio-medio forza, medio-bassa forza, va bene. Dicevo, prendiamo la farina, le reggiamo un po' sul nostro banco e con il nostro cucchiaio andremo a far cadere il nostro impasto. Eccoci qua. Ci basterà a questo punto fare solo un paio di pieghe. In questo modo qua, per chi non fosse pratico, può farlo semplicemente così. Ecco qua. Gireremo la nostra parte liscia. e adesso attenderemo altri 15 minuti. Allora, rieccoci dopo altri 15 minuti e troveremo l'impasto così. Vieni pure. Ecco. Già la consistenza è più soda e più liscia. E noi faremo come prima. Torneremo a fare delle pieghe. Ecco qua. Due o tre pieghe. Eccoci qua. In modo tale che tutti i grumi che si sono creati all'interno pian pianino si andranno a sciogliere. Ecco, guardate la consistenza è già molto più liscia e molto più soda. Adesso non faremo altro che aspettare gli ultimi 15 minuti prima di metterlo in una ciotola lievitare. Lo copriamo e ci vediamo tra altri 15 minuti. Allora, terminati gli ultimi 15 minuti, vedremo questo risultato. E andremo a fare le ultime pieghe prima che il nostro impasto sia terminato. Ecco, come potete osservare, la nostra consistenza ormai è completa, liscia e soda. Noi non faremo altro che incorporare l'ultima aria all'interno con queste pieghe prima di avere un prodotto finito. Eccolo qua. Allora, parlando un po' del no-knit, questa tecnica, come vi ho fatto vedere, ci consente di creare il nostro impasto senza alcuna fatica. Attraverso semplicemente questi 15 minuti, questi tempi di riposo che vi ho dato. Ok? Quindi totale 45 minuti. Serve anche comunque per accelerare tutti i processi all'interno. Perché appunto, poiché non c'è questa energia costante, tutti i legami saranno più deboli e gli enzimi lavoreranno molto meglio affinché appunto in minor tempo ci sarà un prodotto più digeribile. Adesso noi non faremo altro che mettere in una ciotola un filo d'olio. Ecco qua. Adagiamo il nostro impasto all'interno. Gli mettiamo un filo d'olio anche sopra. Ecco qua. E poi lo chiudiamo con una pellicola. Ecco. Copriamo, mi raccomando, molto bene in modo tale che non passi aria. Ecco qua. Adesso non faremo altro che aspettare il nostro raddoppio prima di passare allo staio, cioè alla formatura dei panetti. Quindi vi aspetto tra un paio d'ore più o meno, a tra poco. Allora, trascorse le nostre due ore otteneremo questo risultato. Eccoci qua. Guardate. Raddoppio. Ci servirà una bilancia nei contenitori dove mettere il nostro impasto. Bene, la ricetta che vi ho dato si possono ottenere circa, anzi si possono ottenere due pizze. Queste dimensioni, questo sarà un diametro da 26,28 circa. Non faremo altro che spolverare un po' di farina sul nostro bar pieno di lavoro. giriamo il nostro impasto. Eccolo qua. Guardate che bello. Guardate quant'aria c'è all'interno. Ci aiutiamo con una spatola o anche un coltello, quello che avete in casa insomma. spolverata di farina sulla bilancia. Ecco qua. Circa 456 grammi. e non faremo altro di fare quello che abbiamo fatto prima, andare a chiudere la nostra pallina con delle pieghe. incorporiamo ulteriore aria all'interno. Eccoci qua. La chiudiamo bene sotto. Assicuratevi di chiuderla bene sul fondo. una bella pinzata. Prendiamo il nostro contenitore che io precedentemente ho unto con un po' d'olio e noi ne mettiamo un altro po'. Eccoci. Inseriamo il nostro panetto all'interno. Ecco questo è un po' piccolo, se a casa ce l'avete un pochino più grande sarebbe meglio. Lo chiudiamo. Asprimo un po' d'olio. Adesso lo chiudiamo. e aspettiamo il raddoppio anche di questo panetto. Intanto voi preriscaldate il vostro forno a 250 gradi, tenendolo acceso per un bel po' di tempo in modo tale che prende bene il calore. Io intanto mi staglio quest'altro panetto. Bene, come ho detto precedentemente aspettiamo il raddoppio per poi inserirla nella nostra teglia e poi andremo in cottura nel forno. Farcitura e poi coltura nel forno. A tra poco. Allora, siamo arrivati al nostro raddoppio. Prego, vieni pure a far vedere. Io ho spostato il panetto in quest'altra ciotola proprio per mostrarvi che se non avete un contenitore del genere va benissimo una ciotola. Dopo basta che la copriamo con la pellicola. Prendiamo il nostro panetto. Diamo sempre una spolverata di farina sul banco. Qui restiamo un pochino più abbondanti perché è arrivato il momento di stenderla. Capovolgiamo la nostra pizza. Eccola qua. Un'altra spolveratina di farina sopra. E la giriamo. Adesso basterà dare con le dita dei pochi colpetti, trattenendo tutta l'aria al centro il più possibile. Ecco qua. Prendiamo un filo d'olio. Lo mettiamo nella nostra teglia. Mi raccomando, ingete bene anche tutti i bordi. In modo tale che la nostra pizza non si attacchi. Ecco, prendiamo la pizza, togliamo la farina in eccesso e la inseriamo nella nostra teglietta. Allora io sono stata abbondante con la grammatura. Se la preferita è più sottile, basterà fare il panetto di qualche grammo in meno. A me piace bella alta e soffice. Ok, completiamo l'operazione di stesura. Ci prendiamo qua. Ecco qua. Guardate quanta aria all'interno tutte queste bolle. Sinonimo che i lieviti hanno lavorato bene. Poi, adesso vi preparate il pomodoro. Io il pomodoro a me piace schiacciarlo a mano. Se voi preferite nel mini-peamer, va bene anche nel mini-peamer. apriamo il pomodoro, inseriamo in una ciotola. Mi piace schiacciare dentro, spezzettare dentro un pochino di basilico fresco. Andiamo con un pizzico di sale. Giusto una puntina d'olio. Ecco qua. e con molta pazienza lo andremo a schiacciare a mano. Ora prendiamo il nostro cucchiaio. lo andremo a mettere sulla nostra pizza. Ecco, a me piace, è bello abbondante, quindi sarò molto generoso col pomodoro. Qui va sempre a gusti, voi decidete voi la quantità perfetta per il vostro palato. Allora, avete preriscaldato il forno precedentemente a 250 gradi e adesso andremo a infornare. La mozzarella io preferisco metterla gli ultimi minuti in modo tale che non bruci in forno. Perché ci sarà una cottura di circa 10-12 minuti, preferisco metterla gli ultimi due minuti. Allora, trascorsi circa 12 minuti, prendiamo la nostra pizza. Ecco, si presenterà così. Guardate che bella, alta, soffice. e andiamo a mettere la mozzarella, la nostra mozzarella. Io la mozzarella l'ho tagliata e lasciata asciugare un pochino in frigo, in modo tale che perde tutto il liquido in eccesso. Poi andremo a grattugiare un pochino di parmigiano reggiano. E chiudere con il nostro filo d'olio. Altri due minuti in forno e potremmo gustarla. Ecco amici, ci siamo. Ecco la nostra pizza. Wow! Adesso la parte più difficile è aspettare che si raffreddi per mangiarla. Allora, un attimo che cerco di tirarla fuori dallo stampo. Tiriamo fuori. Ecco la nostra pizza. Alta, soffice, all'interno, croccante fuori. e non ci resta che di assaggiarla. Eccola! Ah, dimenticavo! Non possiamo che non mettere delle belle foglioline di basilico. Eccola qua! E vi ripeto, la parte più difficile è aspettare che si raffreddi. Io mostro e ve lo tiro adesso. Anch'io! Mmm! Bene ragazzi, grazie per aver seguito la ricetta. se vi è piaciuto il video mettete un like e condividete e mi raccomando restiamo in casa che torneremo più forti di prima ciao a you